assolutamente ucciderlo passaggio verso la forra c'è nessun oggetto quindi passaggio verso la forra oh my god uccidiamo il serpentone uuuuh 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 grande un'altra vai pure altre due tre vai tranquillo matta wow pioggia di sangue ragazzi wow viscere di serpente fresche trofeo grande serpe andiamola a vedere vediamo giustizia alla grande serpe